Jacopo Dall'Oglio si è unito al gruppo nel ritiro di Mercogliano. Nel pomeriggio l'ex centrocampista del Palermo ha svolto la fase di scaldamento seguendo le indicazioni del preparatore atletico Pietro Laporta e poi si è aggregato alla squadra. La truppa bianco-verde ha svolto l'intensa seduta tattica con esercitazioni situazionali 1 contro 1, 2 contro 1 e 2 contro 2 su campo ridotto. Esercitazioni che servono per stimolare l'utilizzo di finte dribbling e cambi di direzione e la reazione motore di ogni calciatore a palla persa o ad azione conclusa. I calciatori che non rientrano nei piani di Taurino si sono allenati regolarmente con il gruppo ma nelle prossime ore potrebbero arrivare novità. Ma Stalli è vicino all'accordo con la Lucchese e potrebbe quindi lasciare l'Irpinia.